Il Papa in Piazza di Spagna, Roma, ha reso omaggio alla statua della Vergine Maria nella tradizionale festa dell'Immacolata. Il pensiero di Benedetto XVI è andato alle difficoltà di questo particolare momento per l'Italia e l'Europa con un'attenzione sentita verso chi è senza lavoro. Il particolare con Fabio Zavattara. Guarda Maria, l'umanità chiede che accompagni il cammino di fede, incoraggi l'impegno di vita cristiana e dia sostegno alla speranza. Va a Piazza di Spagna, il Papa, tradizionale appuntamento all'Immacolata. C'è grande folla lungo il percorso, ci sono i malati. È accolto dal Cardinale Vallini, dal Sindaco di Roma, dalla Presidente della Regione Lazio, in questo momento così difficile per l'Italia, per l'Europa, per varie parti del mondo. Maria ci aiuti a vedere che c'è una luce al di là delle coltre di nebbia che sembra avvolgere la realtà. Maria è un inno alla vita, dice il Papa. La Chiesa, in ogni tribolazione, attraverso tutte le prove che incontra nel corso dei tempi e nelle diverse parti del mondo, soffre la persecuzione, ricordate il Papa, ma risulta vincitrice. E proprio in questo modo la comunità cristiana è la presenza, la garanzia dell'amore di Dio contro tutte le ideologie dell'odio e dell'egoismo. L'unica insidia di cui la Chiesa può e deve avere timore è il peccato dei Suoi membri.